bentornati a true fear forsaken souls parte 1 che non lo dico mai ma ormai lo sapete che questa è la parte 1 e che ci sarà una parte 2 ovviamente più avanti poi quando finiremo questo vedremo allora dunque c'erano un po di cose da fare che non ricordo più ma tipo questa mi pare che adesso possiamo farla giusto esatto ok te capi e cosa serve cosa serve il tubo dell'acqua per spegnere il fuoco probabilmente si incendierà qualcosa va bene questa questa che è da un po che mi chiedo cosa c'è dentro quel tubo andiamo a vedere dov'è la macchina non la becco mai non la becco mai qua allora vediamo giusto è lo sapevo sono solo quattro e ce ne mancano ancora tre bel po un bel po e andiamo in bagno direi su beh prima vediamo qua cosa ci dice perché secondo me manca la lenza esatto quindi lì dobbiamo ancora no perché pensavo fosse lì il bagno non è lì ai qua ok dunque mettiamo questo ci sarà un giochino da fare sicuramente no dobbiamo solo aprire bene nostra figlia è incinta deve essere per quello che è cambiata così tanto ultimamente doveva essere spaventata cioè doveva avere paura di dircelo insomma una cosa del genere è un po giovane ma quello potrebbe essere una buona cosa ma chi è il padre ma ma come potrebbe essere una buona cosa ma ma chi ha scritto sto gioco ma io ma io boh che persone sono dei genitori che pensano che sia una buona cosa che la figlia è rimasta incinta giovane e non si sa neanche chi sia il padre ma per favore poi la facevate andare in una casa con soli uomini lì a giocare da ragazzina ma ti pare ma ti pare io non so mi incazzo quando sento queste storie dai per favore di che anno è sto gioco io adoro questo gioco però chiaramente quando ci sono dei problemi di trama in sottofondo mi viene di dirli perché hanno un po rotto le balle se tra me qui chiaramente cioè gli horror si possono fare anche con altre cose no allora wow la mamma è rimasta incinta giovane e adesso lo scopri olli ma sei veramente una cretina io non lo so non sono sorpresa che fosse spaventata di dirlo a qualcuno sarei stata spaventata anch'io forse queste lettere finalmente mi diranno chi era mio padre ah ok perché chiaramente questa cosa ancora non si sa ti hanno detto delle bugie ovviamente perché ti hanno detto che è morto giovane che è morto in un incidente insomma non si sapeva il nome invece non credo che sia che sia così allora il solvente forse va bene qui direi vediamo sì perfetto così ci prendiamo il pesetto che serve di là sulla qua ancora dobbiamo prenderla sta roba ma non so con cosa e il questa cosa serve il pugnale ma vabbè andiamo a mettere il pesetto ma non serve a niente mettere il pesetto perché ancora non possiamo fare nulla lì dov'è la casa sull'albero ma insomma eccola qua allora il pesetto lo mettiamo no ah devo prima ok va bene ok e adesso c'è tutto dovrei legare l'altra parte a qualcosa non mi piacerebbe riportarmi questi pesi su e beh certo se cascano di sotto a parte che non so neanche come te li sei portati fino a qua eh però va bene allora andiamo giù andiamo qua e forse possiamo finalmente fare oh questo lavoro lo possiamo fare però cos'è che ci manca e ancora sta cagata cosa ci manca per per tirare su ah ok dovevamo buttare giù i pesi va bene e poi l'abbiamo tirata ah l'abbiamo tirata pensa un po' è impossibile ripararla perché tutti i cose tutte le manopole sono rotte vabbè possiamo andare qua però no eh qua posso fare qualcosa no allora vado e basta ah qua c'è ancora da fare col lavoro col penso con una spazzola un pennello oh tevis siamo qua prendiamo e leggiamo da quando Charles ha dato a Elizabeth quel pendente eh lei sta giocando nel basement perché Marta continua Marta è la nonna giusto continua a dire che sono pazzo ma non mi piace il pendente sembra vecchio e molto costoso e Elizabeth lo ama parla al pendente per ore perfino oh mamma mia mi piacerebbe che restituirlo ma Marta dice che offenderei i vicini ha ragione è solo un pendente e loro ci hanno dato così tanto beh il nonno aveva dei momenti in cui diceva cose intelligenti e momenti invece in cui si perdeva perché questi qua avevano speso soldi per loro gli avevano dato la casa e quindi ad un certo punto lui stava zitto però non è normale che tua figlia riceva chiaramente regali costosi da uno dei eh degli uomini della della casa soprattutto essendo lui così grande e eh che ci parli tra l'altro con questo pendente vabbè i miei nonni hanno eh trovato mia mamma svenuta nel basement e dopo poco hanno scoperto che era incinta eh non mi piace dove questa storia sta andando eh mi piace preferirei non leggere queste note ecco preferiremmo anche noi Olli limitati a a fare gli enigmi e a questo punto che forse è meglio perché la storia non è delle migliori oh qua manca questo finalmente abbiamo scoperto dove doveva andare prima di aprirlo dovrei collegare il rubinetto a qualcosa e immagino la cisterna è vuota e uno dei delle manopole qui è manca quindi dobbiamo mettere anche uno dei a quella che c'è nel pozzo ok va bene d'accordo questo la macchia è molto strana è come se fosse viva mi domando perché qui e cosa c'è dietro cioè la devo la devo spaccare devo spaccare il muro tipo con una martellata con il pugnale no questo lo posso attaccare qua no secondo me sì vabbè però forse lo devo fare dopo e cosa me ne faccio di quello se non mi fai gli scarafaggini se non me lo fai collegare allora questo cos'è ah è l'altra parte del dell'elefantino quindi lo devo mettere qua l'elefantino per ripararlo oh perfetto qua ah te capi devo devo andare lì dove c'è il magnete e magnetizzarlo come fare una bussola quindi magnetizzare stago questa freccia poi devo prendere ah il tappo che c'è dentro lì incastrato nella casa sull'albero che lo devo tirar fuori con con il con il cavatappi e un bicchiere d'acqua così posso fare la bussola che mi serve a cosa non lo so però ho praticamente tutto no è vero ebbè a meno che non non vada bene questa come ago o questa no ma mi sa che questa è la è la è una leva che devo mettere scusate ma la leva mi sa che la devo mettere qua no vabbè per adesso con la cisterna non mi fa fare una ceppa però se poi scopro che ho cliccato ovunque non mi hai aperto il non me l'hai zoomata mi cavolo vabbè per adesso niente allora qua cos'altro bisogna fare bisogna mettere sicuramente il la colla che abbiamo trovato quella delle a questo mister la lenza bene ottimo non avevo vista quindi dobbiamo mettere la la colla qua dentro e qua 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 va la la maniglia lì questa la leva o perfetto però non mi serve adesso posso sciogliere qualcosa qui certo poi sciogliere la colla adesso andiamo a vedere se si può questo dovrebbe la la pressa dovrebbe funzionare e quindi dopo tutto dopo perché qua altro non posso fare però ho capito come si fa la bussola va bene allora questa poi vediamo qua non posso più fare nulla usciamo 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 e andiamo a mettere la lenza sulla canna qua qui e mettiamo prima la lenza ok e poi l'amo ok adesso posso prenderla o perfetto e andiamo al pozzo vediamo se fin dall'inizio ho detto le cose giuste perché non è detto magari mi sbagliavo se lo trovo del cacchio al pozzo non lo vedo mai o dovrebbe essere così o te rischia intelligenza olli mamma mia questa è la ruota della quindi è semplicemente una ruota io credevo che fosse una manopola invece proprio la ruota perché will serve a tante cose non è soltanto è proprio un volante quindi potrebbe essere mille cose non soltanto la ruota in sé invece in questo caso è proprio una ruota te qua o non so come ha fatto a metterla olli perché ha delle risorse questa ragazza incredibili però a quanto pare sì ho riparato la cisterna ma è ancora vuota e grazie cioè io solo quello dovevo fare dovevo mettere la ruota altro non devo fare ma non ho capito ma ce ne sono due quindi perché una è quella lì sotto e una è quella che c'è qui immagino ma mi fai uscire da questo coso mamma com'è complicato e questa è un'altra cosa immagino perché la dovevamo solo togliere da qui ma quante cisterne avevano vabbè basta fare domande non è che questo va qua no giusto per sapere perché anche questa ancora non ho capito cosa serve sta winch vabbè vedremo allora ho una un seghetto ma non so a cosa mi serve qui c'è altra roba da fare mi dà altra roba da fare ma possibile perché qui c'è ancora acqua che bolle ma non mi pare di avere niente non mi sembra che possa servirmi a qualcosa sta acqua a devo riempire il bicchiere d'acqua qui è sì parte che lo potevo fare anche nel nel cesso e qua c'è altro perché continui a darmelo questo coso qui ma no non mi pare proprio che ci sia altra roba da fare qui qua nemmeno va bene allora qua sicuramente c'è roba da fare devo raccogliere la colla la colla che c'è per terra qua ma io non ho ancora qualcosa dove mettere la colla ho un martello un pezzo degli scacchi questa che cavolo mi serve ma ha buttato via la chiave inglese sta cretina ma ma non poteva servirmi per togliere il crocifisso lì che poi non è un crocifisso però comunque non poteva servirmi nella stanza della nonna nella stanza della nonna c'era il crocifisso da levare lì e poteva poteva andar bene la la branch e invece se l'è buttata via come suo solito mamma mia che che ragazza veramente qua poi come faccio a levare sto coso da qui e non lo posso ancora fare il dagger non ti serve immagino a parte che lo devo zoomare no figurati questa questa qua ma io ricordo bene qua c'è ancora qualcosa da aprire giusto essi c'è ancora bisogno della chiave qui e non ce l'ho ovviamente non mi fai aprire neanche con questo no e non so non so come proseguire può essere che si sia sbloccato qualche gioco da qualche parte allora qui è sì certo che ho da fare ma finché non prendo la la colla non posso fare niente qui c'è sempre il fusibile da mettere e qui dentro c'era ancora da aprire questo è però anche qua ho bisogno della chiave mi sa vediamo con con questa no con questo con questo martellata no meno anche lì ci vuole la chiave mi sa ok qua possiamo fare il nostro allora vediamo se no non è quello e la leva l'ho già usata quindi no mi sa che dovrò proprio trovare una sorta di di freccia un ago perché così non mi fa fare niente si deve essere sbloccato qualche altro gioco da qualche parte mi dà ancora roba da fare in cucina ma perché perché è perché c'è l'acqua d'accordo io non ho niente dove mettere dentro l'acqua non è che posso prendere un bicchiere da qualche parte attorno alla casa sull'albero aspettato un attimo perché magari si è sbloccato qualcos'altro qua posso entrare no la lampadina non non ce l'ho e poi comunque devo mettere la corrente ancora questo col pugnale lo posso prendere no con questo no devo proprio prendere un un coso un cavatappi ma davvero e non so manco a cosa mi serve la questa qua la sega torniamo a qua c'è qualcosa altro che devo fare qui no qua ci sono i buchi qua mi dice sempre la stessa cosa no 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 qua no e perché mi fai vedere qui però non ha senso perché non devo fare più niente allora andiamo un attimo qui nella stanza della mamma c'era ancora la porta è chiusa è d'accordo qui avevo fatto il vestito mi dice solo cose sulla mamma e qua sì ok avevo già avevo già letto allora no qui non ho altro da fare mi dice solo informazioni sulla mamma ma non avevo già tolto tutto qui ma sta porta che è chiusa eh no non ha vabbè andiamo a vedere se per caso qua non posso fare qualcosa tipo questa no il pugnale no direi neanche questa nemmeno questo e il martello no e non mi dai informazioni sembra che la porta sia stata giunta di fretta e non so perché cosa ci fa in questa casa una porta del genere effettivamente la porta di una prigione cioè voglio dire anche ammesso che tu vuoi tenere dalia nascosta al mondo la terza sorella perché magari è pericolosa ma che cavolo ne so perché dovresti tenerla legata ad una catena ma stiamo scherzando ma voi non state bene per niente dai cioè per favore anche ammesso che fosse la figlia del demonio voglio dire è comunque una bambina trovate altri sistemi non c'è bisogno di mettere la la porta che sembra quella di una prigione ma io boh è qua e me lo dà ancora disponibile ma non non si può fare niente qui non si può fare niente questo l'abbiamo abbiamo risolto il bagno mi pare che sia concluso non mi sembra che ci siano bicchieri da prendere perché adesso mi serve anche un bicchiere tra l'altro qui non c'è nulla è ci sono questi momenti morti adesso piano piano risolviamo anche il momento morto perché sinceramente non so che cavolo devo fare c'è ancora lì si da ma questa questa non so che cavolo devo farci perché è una e questo questo secondo è l'unica cosa l'unica cosa qui può servire qua e qua sotto dai è l'unica cosa è una cisterna a meno che non devo metterlo a che scema è vero che stupida non ci ho pensato che era qua che dovevo attaccarlo è ovvio che non mi dava ok a tutto lì era il motivo per cui dovevo fare scusate ogni tanto sono veramente non ascoltare le bambole o siamo già all'atto 3 è un achievement perché ho finito due atti senza chiedere nessuna hint ebbe insomma un cimitero sotto casa e beh certo mi pare giusto vediamo qua c'è qualcosa da leggere ma mi sembra giusto che il bigliettino lo metti nella bocca del gargoyle ovvio marta ha rotto con lo stupido elefante e ho preso le ho portato via le lettere mi sento stupido ad averlo fatto vabbè gliele ridarò e mi scuserò come prima cosa al mattino ma prima andrò da charles l'odius a dirgli che ci trasferiamo ho scoperto qualcosa di orribile ma vediamo qual è la cosa orribile che ha scoperto perché ci ha messo il suo tempo il nonno se solo la nonna avesse trovato questa lettera significa che david il nonno ha trovato questo cimitero anche lui perché non l'ha detto a nessuno è molto strano che abbia avuto il suo attacco di cuore quando è andato ad incontrare charles l'odius e magari è affiliato col demonio charles allora sono ceneri forse c'è qualcosa nascosto qui in mezzo e io come lo scopro non ho più il colino perché tu l'hai buttato via olli perché sei cretina io come come faccio a scavare qua dentro col dagger no e allora restano lì e qua questa statua sembra molto vecchia quasi medievale come come può essere e come può essere saranno presa ad un'asta che ti devo dire oh mamma che cos'è ha una paletta lo scoop è però mi sa che lo scoop serve alla alla cosa alla colla non a questo perché ci sono cose diverse per tirare su la cenere la colla bisogna ovviamente differenziarle no ho lì giusto la testa è spaccata e posso vedere qualcosa di metallico dentro potrei aprirla con una con una botta forte quindi direi di usare il martello no ma dai ma per favore ma perché non dovrebbe essere il martello ma scusami ma rifà no aspetta prima andiamo a no volevo volevo zoomarlo ma non lo fa con una botta forte ma no ma non è possibile ma il martello era la cosa più logica ma io vabbè lasciamo perdere non voglio neanche discutere sulle cagate che dici olli perché non è colpa tua ti hanno fatto stupida allora l'odio sansons questa casa è stata costruita dalla 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 ditta dei l'odius perché hanno costruito colonne e prende si sono presi tanto disturbo per costruire una casa su un cimitero questa è follia perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere e vabbè e quindi basta è solo per per informazione che che hai aperto sta cosa va bene qua non c'è niente le colonne sono fatte di cemento e vabbè certo perché qualcuno dovrebbe prendersi tutto sto disturbo per costruire una casa moderna sopra un vecchio cimitero ancora ah ok questa è caduta e adesso è a faccia in giù e me ne sono accorta olli e cosa possiamo fare in proposito possiamo tirarla su sì possiamo oddio di tutte le cose non andavo mai a immaginare e certo cosa volete che ci sia sotto un cavatappi ma ovvio ma ovvio ti pare questa tomba sembra importante più importante delle altre è come se fosse un cancello e mi sa mi sa che adesso quattro vedete qua dobbiamo metterci la croce una croce di ferro è infilata nella nella roccia nella nella pietra e sembra mi sembra strano che ci sia meno polvere su questa e attorno a questa come se fosse stata piazzata qui di recente e adesso vedrai poi cosa dobbiamo fare sicuramente dovremmo prendere quella croce che c'è di là ancora non so come perché hai buttato via la chiave inglese senza nessun motivo e potevamo usarla questa 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 non mi ricordo come si chiamano queste lapidi questa lapide è coperta con scritte che sembrano in un antico in un'antica lingua ok però tu non la conosci immagino va bene qua non c'è niente da prendere mi pare nient'altro almeno qua allora non possiamo ancora aprire questa testa c'è una c'è una statuina che è il povero tizio dell'agenzia immobiliare non volevo non volevo guardare il suo portafoglio quindi non so nemmeno come si chiama è stato assegnato alla vendita della nostra casa subito dopo dopo che è stata diciamo dopo che è passata di possesso credo ma non so come si dice qual è il termine esatto chiaramente non ha mai fatto la vendita a roba rossa su di lui ma quindi è qua ma dov'è sto poveraccio non lo vedo questi sono queste sono radici ma non mi sembra di aver visto il suo cadavere sicuramente c'è il cadavere di sto poveraccio da qualche parte ma non credo che sia qui sotto come c'entrava come c'entrava qua non poteva ma fatemi vedere sta statuetta dove la trova no la statuetta è nei collectibles vabbè non so perché ha detto a roba rossa su di lui forse sulla statuetta intende io il cadavere di quest'uomo non l'ho visto abbiamo visto il cadavere di quest'uomo ma non mi risulta boh vabbè poi se se lo trovassimo poi poi ne parleremo vabbè andiamo a prendere il cavatappi ma c'è il cavatappi andiamo a prendere il tappo ma giusto perché così è una cosa rapida da fare qua c'è qualcos'altro a te capì un altro teschietto poi andiamo a prendere la colla direi qua che finalmente la possiamo prendere ok poi andiamo a mettere la lampadina qua giusto per qua ok tanto ancora non possiamo fare niente sì perché non c'è la corrente ok dobbiamo trovare su fusibile non abbiamo ancora il bicchiere per fare questo per fare questa dotta come si dice bussola e adesso andiamo dov'era che dovevo fare ma questo cos'è ma non c'era andata qui ma da dove si dove si va di qua no non me ne ero accorta vabbè questa è tutta un'altra cosa che vediamo la prossima volta adesso volevo andare qua per riparare il simpatico elefantino perché mi sembra giusto devo prima accendere il fuoco qua sotto c'hai ragione te questo te lo porti dietro da una vita finalmente finalmente abbiamo risolto e adesso ok qua ok e qua ok e schiaccia o abbiamo l'elefantino fatto ok direi che ci fermiamo qui io direi che abbiamo l'elefantino da mettere a posto abbiamo da guardare tutto un'altra tutta un'altra location che non avevo proprio visto meno male che ho aperto qui a poi ci sarà coessa coessa ce n'è di robe da guardare ok siamo al terzo atto quindi diciamo che siamo penso più a più che a metà gioco perché dovrebbero essere solo tre gli atti perciò se ricordo e quindi ci siamo quasi io direi che ci fermiamo qua con tutte queste cose belle da fare e ci sentiamo al prossimo episodio ciao ciao